mettilo qua così lo riprendiamo che deve avere un po' di graffa guarda guarda il graffo e quindi devi fare spettacolo più di quanto già non lo stiamo facendo grazie 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 bravo non è che ti sentono ti registrano non è smite a strambo a cacinque ormai a roccare un'opcia non è smite a strambo 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 e non è smite il ficello quindi impiegava la strambo mo sense mentre così troppo a distanza si tocca si tocca al bianco ma non non parlo questa è la classica fase in cui iniziava a dare i suggerimenti non parlo, stai tranquillo abbiamo entrambi sacrificato un pezzo questo era meglio col cavallo no, era meglio col cavallo non c'è la torre di te? no, non c'è più non hai messa te? non c'è più non c'è non so per quello non hai messa forse no, non c'è ancora non c'è ancora effettivamente non l'hai messa prima è che non è toccata sono sicuro? è sempre che sei qua se c'è il scarco è il scarco come faccio? ho preso la polenta con l'albicinone con l'ingegnere a questo punto va bene? potremmo fare il scarco? non c'era mai l'interno non c'era mai l'interno non c'era mai l'interno dice pure che è un assetto Grazie. No, lui gioca, che porcheria, lui non mangia con quell'altro, perdone e mangia con quell'altro. Con l'altro? Eh, non lo vedo già che questo è un po' giallo. Eh, devo farmi un riposino. E allora te lo finirei subito. Con l'azione di conturi. Conturi? Si, si, si. Vabbè, fai niente. A Lulli. Comunque qua... Per qualcuno, c'è questa, cazzo. Eh, torni indietro. Questo, 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 questo. Questo, questo, questo. Chiara dietro a tutti, non a solo. Questo, l'altro. Ecco. Prego. 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 Questo tempo. Mi lascio un po. Per esempio. Allora, sposti il rarchiere. Sì, certo. No, però c'è pericoloso la stessa. quando hai mangiato qua hai venito con cavallo qua cavallo mezzo qua attacco doppio attacco lasciate la turi qua per sacrificare si cambia dopo turi lui deve per mangiare mangia turi con regina mato qua io la devo e posso vedere tutto e adesso gioca questa pararasca per esempio cosa gioca per mangiare i pedoni pedoncino adesso lui lo fai poporosia e qui devi difendere questo vorrei difendere i due come fai non puoi difendere i due ma dei gini una certe prima tocca il capo tocca chi tocca